Le opere grafiche di alcuni grandi artisti del 5-600 sono esposte fino al 21 dicembre a Palazzo Cisterna a Torino in una mostra promossa dall'Istituto per la tutela dei beni librari e cartacei, sostenuta anche dal Consiglio regionale del Piemonte. In esposizione 60 fogli incisi di Dürer, Leida e Rembrandt che raccontano in immagini la vita e la società con straordinaria efficacia comunicativa.